E' la bella, anzi la bellissima del cast, come ti sei trovata a lavorare con Lilla e Greg che sono insopportabili? Non è vero che sono insopportabili, ma mi sono trovata molto bene, Lilla e Greg, poi Nino Frassica, insomma un gruppo veramente colorito e colorato di grandissimi professionisti e per me è stato ovviamente un onore, ho imparato anche da questa esperienza tantissimo, mi sono divertita anche molto. Non c'è niente di meglio, se uno può lavorare ridendo e con loro è possibile, credo che sia un assoluto privilegio. Io sono una chef, sono la figlia di Nino Frassica e anche io faccio parte di questo colpo per rapire appunto i cani della regina e richiedere il riscatto per salvare un po' il mio ristorante e poi ci sarà una storia d'amore che però non svegliamo. Va benissimo. Natale a Londra, Dio salvi la regina dal 15 dicembre. Un saluto ai telespettatori di Sinapsi? A tutti i telespettatori di Sinapsi auguro un buonissimo Natale, un serenissimo Natale. Ciao. Grazie, ciao. Grazie.